Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Abbiamo fatto tempo fa un video in cui parlavamo dei motivi per cui troviamo lo studio del tedesco particolarmente difficile. In questo video abbiamo deciso di fare il contrario, ovvero di trovare dei motivi per cui il tedesco secondo noi è una lingua abbastanza facile da imparare. Più o meno. Ma andiamo al video. Trasferisi in Germania si sa è un passo difficile soprattutto quando non conosci le leggi, la burocrazia e la lingua. Quindi spesso non è raro incontrare approfittatori che magari sfruttando il fatto che non conosciate molto la lingua e tutto il sistema tedesco possono danneggiarvi. Una forma di tutela è guardare i nostri video. No a parte quello scherzo. Una forma di tutela potrebbe essere stipulare un'assicurazione legale che può fornirvi aiuto e consulenza legale in caso di problemi per esempio al lavoro, quindi stipendi non pagati, licenziamenti e quant'altro, problemi con l'assicurazione sanitaria, l'agenzia del lavoro, con il proprietario dell'appartamento, quindi affitto, cauzione e quant'altro. ARAG è un'assicurazione tedesca che può fornirvi assistenza in questi ambiti e in molto altro. Può essere un ottimo modo per appunto essere tutelati. Noi non ne conoscevamo l'esistenza però riteniamo che sia particolarmente interessante quindi se siete interessati vi lasciamo tutti i link in descrizione, date un'occhiata e passiamo al video. Il tedesco è una lingua molto logica. Sebbene a volte possano spaventare queste parole molto lunghe che sono formate da più parole fuse insieme, una volta che si conosce il significato delle singole si riesce poi ad arrivare al significato dell'intera parola. Un esempio può essere Kinder Spiel Platz che vuol dire parco giochi per i bambini. È formato da tre parole che sono Kinder bambini, Spiel gioco e Platz che è posto. Un altro esempio può essere visto che siamo all'Ipsia ed esiste veramente questo monumento è il Völkerschlachtdenkmal. Sono tre parole insieme che significano letteralmente monumento alla battaglia dei popoli. Però tranquilli perché anche i tedeschi abbreviano queste parole talvolta per facilità. Infatti lo chiamano Völki. Comunque ci abbiamo fatto un video a riguardo se vi può interessare datevelo a vedere. È vero queste parole possono essere complicate da pronunciare però se si utilizza questo stratagemma diventa tutto più semplice. In pratica bisogna pensare e leggerle singolarmente. Facendo gli esercizi si può migliorare e arrivare a leggerle abbastanza bene. Come per esempio nel caso della parola Kosten Ruckerstattung Gesetz che sarebbe la legge sul rimborso elettorale. Ci sono poi dei suffissi e dei prefissi che seguono delle regole e che cambiano il significato delle parole. Il prefisso Ghe che nei nomi visto che è usato anche per i participi passati è utilizzato per definire le quantità di quella cosa. Nella parola Berg che vuol dire montagna e Gebirge che vuol dire montagne. Oppure Vassa che vuol dire acqua. Gevessa vuol dire acque. Un altro è il prefisso Miss che ha un significato negativo. Nella parola Verständnis che vuol dire comprensione esiste il contrario che vuol dire Miss Verständnis ovvero incomprensione. O anche nella parola Erfolge che vuol dire successo. Miss Erfolge è un insuccesso oppure un flop. Ci sono poi i diminutivi. Sono formati dal suffisso Schien Ken C-H-E-N e Lein Line in tedesco. Come nella parola Man, Uomo, Mänchen, Umino, Frau, Donna, Freulein, Dunzella. Ok, una donna piccolina. Ci sono ovviamente molte altre cose di cui si potrebbe parlare però il video durerebbe troppo tempo. Non è neanche il caso di raccontarvi tutto che annoierebbe. Dunque la buona notizia è che il tedesco ha meno forme verbali rispetto all'italiano. Ad esempio noi abbiamo l'imperfetto, il passato remoto. I tedeschi hanno il preteltum che corrisponde a entrambe le forme. Poi in italiano abbiamo il congiuntivo, il condizionale. I tedeschi hanno il congiuntivo zwei che corrisponde ad entrambe le forme. Per esempio se io dico i schette gern che si usa soprattutto quando vai a comprare qualcosa, corrisponde a vorrei che è condizionale. Se io dico invece se avessi tanti soldi, in tedesco è wenig vielgeldette, è la stessa forma e corrisponde al congiuntivo. Altra cosa buona non esiste il gerundio. Se io dico sto mangiando dirò ich bin bei messen. Sono nel mangiare. Da noi non esiste però è un po' più semplice. Se vedete delle parole con la lettera maiuscola quelli sono sostantivi perché anche i nomi comuni in tedesco sono scritti con la lettera maiuscola. Anche a metafrase, in qualsiasi posizione siano, se hanno la lettera maiuscola voi siete sicuri che al 100% quelli sono nomi. Altra bella cosa è il tedesco non ha accenti né apostrofi. In italiano abbiamo tantissimi apostrofi, qualche accento, il francese brulica di accenti. In tedesco non c'è nessun problema, non abbiamo né uno né l'altro. L'unica piccola caratteristica del tedesco sono le vocali con l'unlaut, quei due puntini sopra che cambiano la pronuncia della lettera. A proposito di pronuncia, il tedesco ha pochissime regole e poche eccezioni. A differenza per esempio dell'inglese che ha una pronuncia semicidiale. Qualcuno mi spiega perché o o in inglese si legge o floor o foot o blood. Perché? Mistero. Chiedetelo agli inglesi. Il tedesco è una lingua germanica, però qualche parolina derivante dal latino ce l'ha e sono i verbi che finiscono in iren, jeren. Telefonieren, reparieren, stornieren, discutieren, protestieren. Facili facili da riconoscere. Bisogna anche dire che il tedesco ha anche tante altre parole che derivano da altre lingue, dal latino e che quindi sono facilmente riconoscibili. Rassismus, di proteste e per esempio ha tante parole che sono prese dal francese. Orange, ingénieur, in francese è ingénieur. Quindi tante parole che se conoscete l'italiano, come si spera, e altre lingue dovrebbe facilitarvi la comprensione. Bene, questo era il nostro video. Il nostro parere. Se avete altre idee, altre... Fatecelo sapere nei commenti. Esatto. Ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se vi è piaciuto. Ovviamente vi sarà piaciuto. Speriamo. Speriamo, dai. Ce la mettiamo tutta. E come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!